Parco di Piazza Adda è chiuso dal comune, si mette in sicurezza subito e si riapre. Esattamente sette sono i giorni trascorsi da quando il sempreverde Parco di Piazza Adda è stato chiuso. Chiusura dovuta alla caduta di un pino che, sfortuna vuole, si schianta contro uno dei pochi sbagli presenti all'interno del parco, ovvero la casetta in legno. In sette giorni sono fatte tante cose nella storia dell'uomo ed è plausibile pensare che necessitano meno di sette giorni per trasportare l'albero in altra sede, e riaprendo così uno dei pochissimi parchi che abbiamo in centro città. Cosa devono fare i bambini e le famiglie più in generale del quartiere già abbandonate alla mancanza di servizi di questa natura in zona? La risposta potrebbe essere molto semplice, ma la lasciamo a chi di dovere. In questi giorni le priorità dell'amministrazione sono state tutt'altre. Non è pensabile che ancora oggi a Seracusa non si dia importanza non solo allo svago dei bambini, ma anche di tutte quelle persone che vogliono prendersi cinque minuti di tempo tra un impegno e l'altro e godersi uno spazio verde pulito. Inoltre, durante questo periodo è venuto a mancare il controllo e la sicurezza nel luogo, dove sono stati visti dai bambini giocare all'interno dello stesso. Essendo ormai rimasto uno degli ultimi polmoni verdi della città, e uno degli ultimi luoghi dove le aree a gioco dei bambini resistono tenacemente, nonostante la pessima manutenzione, si chiede al sindaco di Seracusa di intervenire tempestivamente per constatare la sicurezza dei luoghi. Ci sono diversi alberi inclinati dopo il giorno 10, per ripristinare la riapertura del luogo, di voler programmare la piantumazione di nuove alberi, e infine di installare le nuove aree a gioco distrutte. Così, in una nota, Danilo Carbonaro di Ress Sviluppo.